Ciao a tutti belli e brutti da vostro Christian de Ares, eccoci tornati con un nuovo episodio di Mario 3D Land per Nintendo 3DS, erano rimasti che probabilmente ho superato dal primo mondo e il secondo livello, adesso siamo arrivati al cubo misterioso dove dovremmo vincere in qualcosa di interessante ultimo secondo ok anche questo è fatto bene andiamo su questo livello che se non ricordo male è abbastanza difficile è difficile non era molto diciamo semplice ok 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 e facciamo la guadagnata con un'altra vita Spacchiamo un po' con i passi, come dicono. Questo non ci ha fatto nulla di male. Ok, ah eccolo qua. Ah no, semplicemente ciò. Andiamo avanti, per me mi viene da vivere. Ops, pazzarola che culo ho avuto. Ah no, sono rischiata. Quindi bella. Perchè lo spaventano? Perchè lo spaventano? Perchè lo spaventano? Ah! Sono già arrivato eh? Credo che lo faccia così Merda Vabbè questa volta è andata benissimo Vabbè però non siamo morti siamo riusciti a completare un livello e proseguiamo con il nostro itinerario Visto che ci siamo vedo che c'è un sabotaggio in corso Questa che cos'è? Non mi ricordo questa cosa Ah wow Eeeh che dire Ma si Ah andiamo a casa di Cobb Ma io puoi rompere le palle Sì vabbè Andiamo a vedere se ci sono le monochine Andiamo Ok c'è un regalo E poi un po' le palle alle coppettate Vabbè Non facciamo finta di niente Vabbè Dopo questa notizia bomba io direi anche di farci un altro livellino Visto che ci siamo Facciamoci questo Quarto livello del mondo 1 Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nooo, mi è pure caduto. Vabbè, cerchiamo di arrivare alla fine senza morire. Bella. Ok. Oh, direi che possiamo dire che è tutto. Adesso terminiamo il monicone. Per otto non siamo riusciti a vincere un'altra vita. Nulla che dire ragazzi, con il nostro simpatico Mario possiamo dire che è conclusa qua, poi ci faremo il mostro finale e passeremo al mondo 2 finalmente. Ciao ragazzi, grazie per la visione, se il video vi è piaciuto un bel pollicione, ci fa pure rima, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e se vi piace questa nuova iniziativa fatemelo sapere che è continuo. Ok? Ciao a tutti. Ciao a tutti.